E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi guarderemo l'ultima canzone che è uscita Ultimate Mi piace da morire Aspettavo tanto che sarebbe completato Perché ci hanno fatto anche il trailer E quindi perché non farlo? Ok Canteremo Bello Noi siamo macchine. Meglio se stoppiamo un po'. No. Non mi so. Non mi so. Non mi so. Vieni a noi adesso. Non mi so. Adesso. Non mi so. Non mi so. Non mi so. Se sei fanno che non è arrivato. Noi siamo l'ultimo 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 Noi siamo l'ultimo